Ciao buonasera a tutti amici e appassionati di questo meraviglioso settore delle criptovalute stiamo vivendo una vera telenovela che riguarda il fork di Ethereum è avvenuto o non è avvenuto questo fork? allora ci sono opinioni discordantissime perché tanti sono convinti che non sia avvenuto tanti sono convinti che invece sia avvenuto e quindi andiamo a scoprire un attivino cosa può essere successo allora ci sono degli articoli che girano online che dicono e testimoniano che il fork non sia avvenuto realmente quello che noi possiamo vedere qui è che il sito ufficiale di EtherZero invece dice che questo fork è avvenuto al blocco e dice il blocco e quindi tutto sta andando come loro avevano più o meno prefissato che il progetto di EtherZero sia buono o solido questo è un altro discorso che quest'oggi non andiamo a toccare vogliamo solo capire se ci sarà o meno questo fork e beneficeremo o meno di questi EtherZero in proporzione di 1 a 1 in base a quanti Ethereum si avevano nelle wallet ieri sera al momento del fork allora qui dicono che lo snapshot è stato fatto questa mattina sul blocco 4.936.270 in questo blocco è avvenuto diciamo il fork ed è stato fatto lo snapshot di questo blocco snapshot che è avvenuto questa mattina quindi hanno fotografato la situazione che c'era in quel blocco e quindi andranno a ridistribuire gli EtherZero in base a quella situazione poi quando avviene perché tanti dicono sì non è avvenuto perché non ho ricevuto nelle wallet gli EtherZero gli E-T-Z qua dicono realmente che gli EtherZero verranno distribuiti il 22 gennaio tra il 22 e il 23 gennaio quindi per dire che non è avvenuto il fork credo bisognerà aspettare il 23 gennaio se allora il 23 gennaio non avremo nessuna traccia degli EtherZero allora a quel punto sì potremmo dire con tutta certezza che il fork non è avvenuto poi qua descrivono realmente cosa succederà per chi volesse vedere la descrizione del progetto avevamo già fatto un video vi lasciamo sotto il link per poter guardare il progetto di EtherZero questa telenovela ha quasi un termine perché il 23 realmente potremo finalmente scoprire se questo fork di Ethereum è avvenuto o meno fino al 23 attendiamo poi scopriremo se ci sono stati regalati questi nuovi token queste nuove criptovalute noi la andremo ad analizzare strada facendo mano a mano che loro daranno delle indicazioni noi assieme al team di The Crypto Academy andremo a vedere se recuperare questi token sarà una cosa sicura o meno intanto The Crypto Academy e Marco vi salutano con questa bella telenovela ci stiamo divertendo ci auguriamo che vada tutto per il verso giusto e che questo progetto si dimostri serio anche se al momento ci sono molti pareri che dicono che non lo è è tornati nel nostro canale YouTube di The Crypto Academy o nella pagina Facebook di The Crypto Academy The Crypto Academy vi saluta ciao alla prossima